Perché voi avete un valore, una moneta straordinaria, che è oro, è il nuovo oro. Siete voi, i vostri dati, quello che siete, quello che pensate. Esistono applicazioni fatte prevalentemente per sapere chi siete e addirittura influenzarvi rispetto a quello che vuole, magari uno Stato diversamente democratico. Pensateci, pagate con quella moneta e uno può pensare, ma chi se ne frega, per l'indirizzo, un nome, una foto, cosa vuoi che sia. No, è di più, c'è di più. C'è di più perché loro sanno tutto di voi, ma tutto, aspetta, più di quello che pensate che sappiano, tutto. Perché il nostro telefono ha un microfono, ha una telecamera, ha un sensore GPS che sa esattamente dove siamo. E pensate, un'altra cosa, ogni cosa che noi pubblichiamo rimarrà lì per sempre.